Buonasera a tutti Benvenuti al mio appuntamento quindicinale Il mio appuntamento, il mio tema sono sempre, saranno sempre i temi riguardanti il lavoro in generale la classe lavoratrice in generale quindi anche chi lavora e chi non ha il lavoro Il tema di questa sera che vorrei affrontare sono gli investimenti Questo perché mi ha stimolato ultimamente l'accordo che i lavoratori dell'Alitalia stanno votando se va bene o meno, se loro sono più o meno d'accordo sull'accordo che è stato firmato tra le organizzazioni sindacali e la controparte che vede anche coinvolto il governo Ma il tema degli investimenti è un tema che riguarda in questo momento i lavoratori dell'Alitalia e quindi io ne approfitto per parlare di questo problema ma in generale riguarda tutto il mondo del lavoro Oggi a fronte di qualsiasi crisi aziendale voi troverete sempre le organizzazioni sindacali che a fronte di una richiesta di sacrifici, riduzioni di salari ma non solo, anche aumento della produttività a fronte di un piano di investimenti industriale che vede d'accordo anche le organizzazioni sindacali si fanno passare tutta una serie di peggioramenti delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori Il punto è questo e la domanda è questa Gli investimenti sono effettivamente poi quello che si dice la panacea dei tutti i mali cioè quindi i lavoratori devono farsi carico delle difficoltà che in quel momento l'azienda sta affrontando quindi farsi carico di ridurre le proprie condizioni peggiorando le proprie condizioni di vita e di lavoro per salvare la produttività dell'azienda cioè il profitto dell'azienda Prima di tutto analizziamo che cos'è l'investimento L'investimento è una parte del profitto che l'azienda fa lo prende e con questo profitto compra dei macchinari più moderni per aumentare la produttività Facciamo l'esempio che questi siano soldi dell'azienda per semplificare l'azienda può anche chiedere investimenti cioè soldi alle banche e quindi uno storno del plus valore che verrà prodotto dai lavoratori attraverso il loro lavoro la creazione di valori d'uso attenzione il profitto viene sempre attraverso prima la creazione di valori d'uso cioè di oggetti che servono a qualcuno quindi a qualcuno che poi li comprerà però la realizzazione del profitto avviene attraverso la circolazione cioè sul mercato se questi valori d'uso vengono comprati a un determinato prezzo quindi la valorizzazione avviene sempre nella circolazione altrimenti rimangono là i valori d'uso diventano valore denaro che conosce la società capitalistica cioè il profitto rimane là diventa impotenza e non si è realizzato ma facciamo il caso più semplice come dicevo quindi la società che poi a volte non è il padrone perché le società ormai sono quasi tutte amministrate da amministratori delegati da persone che non sono proprietari del capitale facciamo l'esempio che è più semplice che questo abbia i soldi attraverso la vendita di questi prodotti quindi attraverso il profitto una parte di questi soldi viene chiesto che vengano reinvestiti in capitale in macchinari e via dicendo per ridurre la quantità di costi per unità di prodotto di valore d'uso allora questo è a vantaggio o svantaggio dei lavoratori? questo è la simbiosi cioè l'unione che si vuole sempre più fare tra il lavoro e il capitale in realtà qualsiasi cosa qualsiasi profitto che viene attraverso il lavoro attraverso la vendita di questi valori d'uso che viene fatta alle spalle dei lavoratori è un sottrarre una ricchezza che qualcun altro ha creato cioè quindi i lavoratori ma a fronte di un aumento della produttività quindi si acquistano macchinari sempre più potenti macchinari che producono per unità di tempo sempre pezzi maggiori di prima e spelle dal mondo del lavoro lavoratori da quella unità produttiva dei lavoratori ma a fronte di questo abbiamo sempre e comunque e qua non vorrei entrare in un altro campo la caduta tendenziale del saggio del profitto cioè se da una parte aumenta il grado di sfruttamento dei lavoratori che rimangono in azienda dall'altro la proporzione tra capitali investiti e plus valore quindi la massa del profitto il tasso medio del profitto tende a decrescere perché il tasso del profitto è una proporzione tra totale di capitale investito e il capitale in salari in valore capitale variabile perché le macchine non aumentano il valore delle merci non fanno nient'altro che il loro costo essere trasferito nel valore d'uso delle merci quindi in pratica l'investimento è una sottrazione di ricchezza dalla parte della classe operaia però ci viene detto se non accettate l'investimento se non fate questo dobbiamo chiudere o chiudiamo la fabbrica o la esternalizziamo la portiamo da un'altra parte questo è come la proporzione sta all'accordo all'impiccato si diceva una volta cioè accettare queste condizioni di lavoro se da una parte può far sì che momentaneamente attraverso l'avvantaggio tecnologico un'azienda può produrre a prezzi minori della concorrente in sostanza ci rimette in generale la classe operaia perché il sistema comunque resiste perché la ditta concorrente che va in falimento perché noi perché i lavoratori hanno accettato di ridursi il salario e aumentare la produttività la concorrente va fuori mercato e il pezzo di mercato che era occupato da questa viene preso dalla azienda vincitrice in pratica il sistema rimane il sistema rimane vivo e vegeto chi ci ha rimesso in generale sono la classe è la classe che lavora sono i lavoratori quindi a fronte di questa domanda è conveniente o è giusto che il problema che si pone il capitalista o l'azienda in questo caso è un problema della classe operaia ogni volta che la classe operaia si fa carico del problema della propria azienda che può essere più o meno piccola o più o meno grande è un problema generale della classe lavoratrice o è un problema del sistema bene a questa domanda vi dico che il problema è il problema del sistema non è un problema della classe operaia perché ogni volta che noi come classe lavoratrice rinunciamo a dei nostri diritti al nostro salario altre cose diventiamo più deboli noi rafforziamo il capitale anziché buttarlo far sì che lui diventi più debole lui diventa più forte e noi diventiamo più deboli e lo vediamo perché ci massacriamo uno contro l'altro e siamo disposti a lavorare per sempre meno pur di avere uno straccio di lavoro quindi vorrei concludere questa breve trasmissione sugli investimenti con le finali di Guglielmo Carcedi o Carcedi che è un docente dell'università di Rotterdam e nella sua analisi in una relazione nella sua analisi sulla crisi del plus valore dalla crisi del plus valore alla crisi dell'euro però finisce proprio su un punto fondamentale volevo leggervi questo perché lui è molto più chiaro di me su questo quando dice se i lavoratori devono farsi carico di questo problema in questo caso degli investimenti o no lui dice che i lavoratori non devono farsi carico perché il problema non è suo il problema se salvare l'azienda non è un problema della classe non è un dilemma più sacrifici o altrimenti chiudono la fabbrica è un problema del sistema noi dovremmo chiedere altre cose quindi la prospettiva dei lavoratori deve essere un'altra deve essere incentrata lui dice su tre punti cardini primo qualunque sia la strategia del capitale non c'è modo da evitare le crisi perché sono insite nel sistema di produzione capitalistico il capitale la può solo la crisi la può solo posporre fino alla prossima esplosione le politiche di lacrime e sangue sono non solo inique ma inutili si esce definitivamente delle crisi solo uscendo dal sistema l'idea che il lavoro possa insegnare al capitale come uscire della crisi è un errore fatale seconda cosa qualunque sia la strategia difensiva che il lavoratore sarà in grado di darsi mentre il capitale cerca di risolvere i propri problemi i lavoratori devono risolvere i propri evitando che i costi della crisi siano riversati su di loro ma non è sufficiente il rigettare la riduzione dei salari e i maggiori tassi di sfruttamento la prospettiva è fondamentale la prospettiva ekenisiana accettata unanimamente dalla sinistra rigetta i sacrifici perché essi strangolerebbero l'economia attraverso una compressione dei consumi delle masse ciò è erato i minori salari sono sempre l'equivalente di maggiori profitti anche se tutti i beni il cui valore equivale ai minori salari rimanessero invenduti e se quindi non possono influire negativamente sull'andamento dell'economia le politiche di austerità devono essere rigettate perché in un periodo di crisi i maggiori profitti non vengono convogliati verso i settori produttivi di nuovo questi sacrifici sono non solo iniqui ma ingiusti terzo che secondo me è il più importante la tesi che invece di ridurre i salari il capitale dovrebbe aumentare la propria efficienza cioè attraverso gli investimenti e che ciò sarebbe vantaggioso anche per gli operai è falsa i miglioramenti tecnologici in un paese aumentano i valori d'uso prodotti cioè i beni prodotti essi sono appropriati dal capitale perché sappiamo che i prodotti e i valori d'uso non sono di proprietà di chi li produce ma sono di proprietà di chi detiene il capitale quindi essi sono proprietà del capitale e possono essere palzalmente ridistribuiti anche al lavoro di quel paese sembrerebbe che vi sia una comunione di interessi che sia il capitale che il lavoro debbano applicarsi per l'introduzione di mezzi di produzione più efficienti tuttavia attraverso questa maggiore efficienza i capitalisti avanzati di un paese sottraggono plus valore ai capitalisti tecnologicamente retrogradi di altri paesi questi ultimi al fine di recuperare il plus valore perduto scaricano i costi della propria crisi sui propri lavoratori i vantaggi per la classe operaia di un paese sono annullati dagli svantaggi della classe operaia dell'altro paese la lotta del lavoro non può che essere internazionalista e qui concludeva io non posso che sposare queste queste conclusioni perché sono i fondamenti della classe lavoratrice ricordiamoci che in uno scritto del 1848 il manifesto del partito comunista diceva proletari di tutto il mondo unitevi oggi siamo arrivati a che proletari di tutte le aziende diverse di paesi diversi e via dicendo fatevi la guerra fra di voi e mentre noi ci facciamo la guerra per un misero salario non ci non riusciamo a vedere che abbiamo un mondo da conquistare io ho concluso anche per questa sera vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima volta sempre qui su Radio Science ciao a tutti Ciao a tutti